Allora benvenuti alla prima edizione della rossa tropea la rossa tropea i club più belli d'italia nel borgo più bello d'italia quindi due situazioni che vanno a braccetto l'ente promozione calabria ha voluto creare questa iniziativa uno per le festività natalizie dell'intera regione calabria e poi per portare in esclusiva per il sud Italia il libro di Angelo Castelli Angelo Castelli è un ex dirigente Ferrari che fino per 50 anni ha collaborato a stretto contatto con Enzo Ferrari quindi una stretta collaborazione che ha dato un impulso notevole alla piccola cavallino piccola cavallino che nel corso degli anni è diventato grande grazie ad Angelo Castelli che è diventato anche responsabile dell'area tecnologica del reparto Ferrari quindi una personalità che oggi abbiamo in Calabria un evento esclusivo per il sud Italia, una presentazione esclusiva di un libro che racconta 50 anni di scuderia, 50 anni inediti dove si raccontano aneddoti, dove si raccontano situazioni che fino ad oggi non sono mai state raccontate quindi è un piacere avere qui Angelo, è un piacere avere qui le scuderie della Calabria è un piacere farla tropea un ringraziamento al sindaco Macri che ci ha accolto a braccia aperte ha accolto l'ente di premozione Calabria e con lui spero faremo tanti altri grandi eventi come anche altre amministrazioni che si stanno susseguendo e con lui spero faremo